quanto influisce l'ambiente sulla salute grazie una domanda splendida di grande importanza perché sicuramente l'ambiente influisce tantissimo sulla salute e nel corso del convegno odierno abbiamo identificato molte macro aree dalle malattie respiratorie alle malattie neoplastiche alle malattie cardiovascolari le malattie cardiometaboliche senza dimenticare gli effetti che abbiamo prima ancora di nascere sugli effetti che avvengono anche da parte dell'ambiente sulla salute ma se su questo c'è forse negli ultimi tempi una maggiore sensibilità rispetto a fronte anche della crisi climatica in realtà molto deve essere ancora fatto per comprendere che curando l'ambiente quindi la salute dell'ambiente determina un miglioramento della salute delle persone quindi necessario e questo è uno degli sforzi che le due commissioni distrettuali commissione ambiente commissione salute hanno voluto portare avanti insieme è proprio di avere una visione one health ovvero renderci conto che i cambiamenti climatici la crisi climatica attualmente in corso deve essere affrontata mettendo in comune dei saperi proprio per migliorare la salute delle nostre comunità quindi scurare l'ambiente vuol dire anche curare le persone e curare tutti quei determinanti di salute che oggi influiscono sfavorevolmente e in modo sempre più crescente su tutta una serie di patologie molto importanti che ci troviamo quindi come medici a dover curare anziché prevenire e questo è il nostro obiettivo l'impegno da sempre dei rotari